GF Vip 7, Antonella Fiordelisi tagliente contro Micolin Corvaia, qui fa Santarellina ma te la data la sera appena ti ha visto. Class uguale P1 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono la coppia più discusse di questa edizione del GF Vip 7. Class uguale P1 i due ragazzi, dopo numerosi alti e bassi, stanno cercando un equilibrio. Anche se non mancano piccole incomprensioni. Class uguale P1 durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Antonino Spinalbese e Antonella e di quello tra Edoardo e Nicolin Corvaia. Donnamaria ha però ribadito che dopo il flirt avuto con Nicola ragazza è solo un'amica. E che in più occasioni si è dimostrata una grande amica. Class uguale P1 dopo la puntata Edoardo e Antonella si sono ritrovati a conversare. Parlando di Antonino e Nicol. La Fiordelisi ha utilizzato nei confronti della ragazza dei termini non proprio carini che non sono piaciuti al popolo del web. Rivolgendosi ad Edoardo, Antonella ha detto. In molti sui social hanno criticato le taglienti esternazioni di Antonella, specie visto che la vippona ribadisce spesso di non parlare mai alle spalle. Rivolgendosi ad Edoardo, Antonella ha detto. Rivolgendosi ad Edoardo, Antonella ha detto.